ciao ragazzi torniamo a parlare di potatura sto ricevendo un sacco di domande soprattutto potature di strutturazione per far cacciare la pianta dietro per creare nuovi rami vediamo la differenza che c'è fra questi due aceri per capire quale delle due piante pronte quale delle due sta andando meglio dell'altra cerchiamo di capire quando il ramo è maturo quando le foglie sono mature quindi come valutare se è il momento di intervenire oppure se dobbiamo aspettare primo caso foglie sono più scure come vedete rispetto a questa qua quindi qui anche al tatto risulta più matura se vedete che le foglie hanno un po le punte nere chi se ne frega che non è un problema questo perché durante questo periodo della stagione c'è un po di sbalzo termico ieri ad esempio anche nevicato qua e quindi un po i bordi delle foglie si vanno a rovinare e non è il focus che dovete guardare che guardate i rami quindi se la foglia matura i rami sono già abbastanza rigidi potete già pensare a una potatura adesso io aspetto ancora un po semplicemente perché voglio far maturare bene la prima mandata per consolidare e per andare già a maturare un pochettino anche i rami che sono più fini no perché la pianta matura un po tutto ovviamente fa allungare quelli che sono più forti a un certo punto vado a fare una potatura secca e stretta più stretta che posso alla prima coppia di gemme in linea di massimo no per andare a biforcare per andare poi a stringere e fare sviluppare nuove gemme da dietro quindi quando io nei video dico far ricacciare da dietro semplici semplicemente significa che io vado a tagliare per stimolare poi le gemme che stanno dentro il ramo perché quelle lì se no rimangono gemme latenti però guardiamo bene la differenza io qua non posso neanche pensare di intervenire ok cioè guardate qua questa praticamente viola ok anche i rami quando li tocco sono più morbidi questi invece hanno già più consistenza questo ci fa capire anche l'andamento dell'anno scorso l'anno scorso questa si è presa tanto di quel mangiare ed è già in substrato specifico è già abbastanza radicata diciamo che a posto ok questo ragazze subito altri trattamenti non è non ha preso i trattamenti che gli do io ok questa appena presa ho fatto il rinvaso quest'anno però vi motivi è un po più indietro di questa qua che è già entrata nell'ottica di caro armato devastante ok che è fondamentale per mandare via i problemi far sì che la pianta stia bene veramente quindi ragazzi il focus è semplicemente nel guardare se i rami si maturano bene e le foglie quando sono verdi sono qualche problemino qualche chiazza non ce ne frega assolutamente niente soprattutto adesso ok sono contentissimo questa sta andando bene anche questa va bene un po più piano questa sta andando anche questa ciao a tutti ragazzi mi raccomando adesso il momento per darci dentro come degli assassini cioè stare lì sempre a farvi i dubbi perché qualcuno vi ha detto molto spesso il qualcuno che vi ha detto non ha mai avuto un bonsai serio fra le mani c'è questa la differenza che fa fra un professionista quindi uno che c'ha le palle e sa prendere delle decisioni su delle piante da 3 4 mila euro e uno invece che sta lì a fare il guro però sotto c'ha i bastoncini ok chi sa fare lavori che sa concimare coltivare non ha problemi non ha paura il resto ragazzi sono ragazzi sono dei ronzini i ronzini quelli che sta lì con l'invidia che mi dispiace per loro i ragazzi non so più veramente come fare ciao a tutti a bomba ricordate sempre che il bonsai significa una pianta di tutto rispetto in un vagio non dei ciclamini che stanno lì che fanno così ok a bomba ciao a tutti